Enolmatic è una riempitrice automatica per vino, olio, salsa di pomodoro e tutti i fluidi alimentari. Di semplicissimo utilizzo e di estrema affidabilità, offre il vantaggio di ottenere con poca spesa, con il massimo comfort, risultati veramente professionali. Innanzitutto la damigiana o qualsiasi altro recipiente può essere lasciata a terra, anzi persino 4 metri più in basso. Il tubo di pescaggio è dotato di un distanziatore regolabile che evita il prelievo di eventuali fondi. La velocità di Enolmatic è sorprendente, una volta inserita la bottiglia viene riempita in pochi secondi. Enolmatic infatti consente di riempire circa 300 bottiglie all'ora. È da notare l'esclusivo sistema autostop. Nel momento in cui la bottiglia viene disinserita non cade una goccia di vino. Enolmatic fa automaticamente il livello desiderato, trasferendo la schiuma nell'apposito contenitore di recupero. Infatti tramite questa ghiera è molto semplice decidere a piacere il livello di riempimento, a seconda del tipo di vino e del tappo che verrà utilizzato. Naturalmente si possono riempire bottiglie di diverse misure, anche bottiglioni da 2 litri, regolando l'altezza dell'asta. Un'ulteriore comodità è rappresentata dalla valvola Vacuum, che consente di regolare la velocità di imbottigliamento. Un particolare veramente utile, che permette di evitare un'eccessiva formazione di schiuma con vini molto frizzanti. Il grande pregio di questa macchina, oltre alla comodità che offre, è quello di funzionare con un principio che mantiene assolutamente integre e inalterate le caratteristiche e la genuinità del vino. Infatti il vino non viene pompato, ma viene richiamato dal vuoto che Enolmatic crea nella bottiglia appena viene inserita. Il vino perciò si trasferisce direttamente dalla damigiana alla bottiglia, in modo naturale, senza passare per organi meccanici, senza essere sbattuto e nell'igiene più assoluta. Enolmatic è semplice anche da pulire. A lavoro terminato si recupera il contenuto del vaso. A questo punto è sufficiente un semplice passaggio d'acqua. La versatilità di questa macchina è tale che può essere adoperata anche per altri tipi di prodotti o per altre funzioni. All'Enolmatic, che viene fornita completa per imbottigliare il vino, possono essere infatti abbinati quattro differenti kit. Il damigian kit consente di travasare da una damigiana all'altra in modo estremamente semplice e agevole, senza faticare minimamente. Naturalmente, anche in questo caso, il travaso avviene grazie al vuoto che si crea nella damigiana da riempire. L'oil kit permette di imbottigliare olio, sostituendo con facilità e senza utensili le parti della macchina dove avviene il passaggio del liquido. Con il tomato kit si eliminano i disagi dell'imbottigliamento del pomodoro, anche con le salse più dense. Un filtro apposito trattiene eventuali semi e, come sempre con Enolmatic, non cade una goccia. Infine, il jar kit, per riempire ogni tipo di vaso in vetro, rapidamente, a livello prestabilito e senza sprechi. La filtrazione del vino è solitamente un processo laborioso e necessita di macchinari costosi. Oggi non più, perché c'è il filtro a depressione Tandem, creato appositamente per essere abbinato all'Enolmatic. È così possibile ottenere un set veramente professionale, unico nel suo genere, che consente di filtrare e contemporaneamente imbottigliare il vino. Tandem, una volta interposto tra la damigiana e l'Enolmatic, filtra il vino sfruttando la depressione creata dalla macchina. Si ottiene quindi una filtrazione naturale, che consente di mantenere perfettamente integre le caratteristiche del vino. Le cartucce del filtro Tandem sono disponibili in diversi gradi di filtrazione, a seconda delle esigenze del prodotto. Sarà perciò possibile ottenere una sgrossatura, una filtrazione fine per vini rossi e una filtrazione ultrafine per vini bianchi. Tutte le cartucce sono realizzate in materiale alimentare e sono lavabili. Sarà perciò possibile utilizzarle per molte filtrazioni e per grandi quantità di vino. Si possono addirittura collegare due o più filtri Tandem per effettuare contemporaneamente, per esempio, sgrossatura e filtrazione fine. Su richiesta è disponibile un kit particolare, il Mignon Kit, appositamente realizzato per il riempimento delle bottigliette Mignon. Anche in questo caso è possibile decidere il livello di riempimento delle bottiglie. Con una macchina e un operatore si riescono a riempire circa 600 bottigliette da 100 millilitri in un'ora. Naturalmente si possono imbottigliare anche liquidi densi, come olio, creme, eccetera. L'Enolmatic e il Jar Kit sono senz'altro un binomio molto interessante anche nel campo del confezionamento di cosmetici. Infatti è possibile riempire persino con creme molto dense vasetti con un'apertura a partire da un diametro minimo di 32 millimetri fino a un diametro massimo di 120 millimetri. molto bene. Avildare